buongiorno oggi parliamo di alida valli in occasione del centenario della nascita per presentare un documentario è lì davalli nero uo che è stato pregià presentato alla scorsa edizione del festival di cannes e del festival di venezia ma non è stato ancora distribuito internazionalmente quindi è una novità che siamo lieti di avere per le stanze e al documentario si aggiunge una mostra virtuale ovviamente per le stanze una mostra fotografica con foto di scena con ritratti e con altri scatti che sono costruiti presso l'archivio carlo montanaro è un importantissimo archivio di venezia dove è documentata diciamo così una buona parte della storia del cinema contemporaneo e siamo molto felici oggi di avere in collegamento con noi proprio da venezia il fondatore responsabile dell'archivio il professor carlo montanaro che saluto con grande amicizia appunto con grande gratitudine per parlare insieme di edita valli allora buongiorno a tutti buongiorno fabio grazie in realtà oltre al cinema contemporaneo mi permetto di dire che il mio archivio che ho chiamato la fabbrica del vedere parte dal pre cinema da canaletto io c'ho un paio di incisioni di canaletto e cerco di documentare l'immagine da quando è possibile riprodurla e quindi poi arriviamo anche ad alida valli ovviamente anche al contemporaneo e quindi parti da prima della storia del pre cinema che documentata anche in un altro monster che quella che c'è a padova in prato della valle c'è una specie del museo del cinema che sono molto amici con laura minicinzotti sì sì esattamente minicinzotti e che si concentra però più sul periodo delle delle innovazioni tecnologiche che portavano così a elaborare delle immagini nelle magiche scatole 800 proiettari verso il mondo reale anche se era finzione tu invece parti del correda prima e poi vai oltre perché è un archivio importante anche per la storia del cinema del novecento ti chiederei allora di raccontare un po come è nato prima di tutto questo archivio io volevo fare il regista ma i fatti della vita hanno comportato un po alla volta a portarmi più direttamente all'interno della storiografia cinematografica e poi anche dell'insegnamento e andando a insegnare io a un certo punto ho pensato di avere la disponibilità di immagini per testimoniare come la tecnologia è importante io insegnavo teoria e metodo dei mass media quindi proprio tutta la parte che ha a che vedere anche con la tecnologia del linguaggio cinematografico e da avere delle diapositive a possedere l'oggetto della diapositiva il passo poi è stato relativamente breve e questo mi ha comportato anche la necessità di comprare i film e di avere dei contatti io sono anche uno di quelli che da 40 anni fa le giornate del cinema mutuo a pordenone quindi diciamo che questa voglia di essere autore cinematografico si è spostata completamente sul piano della documentazione e questa documentazione è diventata sempre più pressante e devo dire senza falsa modestia anche interessante perché questi documenti che ho raccolto in realtà riescono a far capire come dalla fine del seicento ai primi del settecento in poi queste immagini hanno potuto insegnare divertire far sognare in particolare far sognare quello che credo la cosa fondamentale amando il mondo del cinema sia proprio quello del sogno e direi che nel documentario a di davalli in air on words questa di duplice che il cinema è capace di aprire da un lato la riproduzione fedele della realtà dall'altro mondo di sogno grazie anche all'immagine magnifica di alcuni attori come appunto di davalli ecco è molto chiara bisogna ringraziare per questo il regista mimo verdesca e bisogna ringraziare anche simon agnelli dell'istituto luce che distribuisce appunto questo documentario tu hai una collezione dedicata da di davalli di documenti importanti vuoi raccontarsi un po come nata quali sono i punti di forza di allora io nel corso della della ricerca in particolare dedicato a ciò che è accaduto nel cinema a venezia mi sono a un certo punto incuriosito e ho cercato di approfondire la figura di un personaggio che era presente in molte istituzioni cominciando dalla mostra del cinema dal comune di venezia eccetera ma che le cui opere era difficilissimo vedere e questo personaggio si chiamava francesco pasinetti era il nipote di guglielmo ciardi un grande pittore dell'ottocento veneziano il fratello di per maria pasinetti che ha insegnato una vita in america tra l'altro filologia romanza credo ed è morto a venezia oramai parecchio tempo fa sì insomma mentre francesco è morto giovanissimo è morto non ancora trentottenne e francesco ha preso un pochino questa tradizione se vogliamo figurativa rispetto a quello che è il mondo e da disegno pittura carboncino grafite biacca e quant'altro ha scoperto in realtà la fotografia prima poi il cinema e ha fatto anche del cinema appassionandosi al cinema facendo la prima tesi ottenendo la prima tesi di cinema che poi era la bozza di una grande storia del cinema che pubblicherà negli anni all'inizio degli anni 40 e quindi diciamo che io sono riuscito a recuperare grazie all'amicizia con la vedova pasinetti e col fratello pier maria ciò che è rimasto di una grossa dissipazione di cose perché quando è morto improvvisamente giovanissimo a roma la casa è rimasta un po abbandonata poi le cose sono finite addirittura a porta portese mentre a venezia lo studio di una sorella della mamma sempre una ciardi ha preso fuoco e quindi è sparito tantissimo materiale sono spariti addirittura dei film che lui ha fatto compreso il negativo dell'unico lungometraggio che si chiamava il canale degli angeli e quindi io mi sono trovato a gestire a promuovere la conoscenza e l'approfondimento di questo francesco pasinetti recuperando in particolar modo le fotografie lui è diventato a un certo punto un fotografo assolutamente strepitoso e nel momento in cui girava soprattutto dei documentari in realtà faceva anche le fotografie quindi io sono riuscito con il centenario della sua nascita nel 2011 ottenere un fondo regionale che mi ha permesso di restaurare di trovare di recuperare tutta una serie di materiali e anche di sistemare questi materiali in mezzo ai quali è venuta fuori la sua presenza come professore al centro sperimentale di cinematografia non proprio dal primissimo anno ma dei primi anni una frequentazione con due giovanissime e talentuosissime ragazzine una si chiamava Carla del Poggio e l'altra si chiamava Alida Valli anzi si chiamerà poi Alida Valli perché quando si conobbero lei aveva questo nome altisonante e nobile di lontana vocazione asburgica addirittura insomma quindi ecco che dentro questi materiali io ho trovato delle cose e conosco molto bene anche il nipote che ha promosso un pochettino il film che voi farete vedere e diciamo che però dentro questo filmato che voi farete vedere e sono abbastanza orgoglioso di averlo visto in anticipo nel senso di colmare in particolare per questa nostra occasione un piccolo forse elemento della biografia che non era stato approfondito nel filmato che vedete quindi siamo complementari ecco ho rivolto proprio la mia attenzione nel recuperare questi primi momenti in cui la giovanissima Alida esce sboccia diciamo pure così quasi come come un fiore selvaggio nel mondo vario e svariato e articolato già allora del cinematografo ecco tu parlavi del nome perché in realtà Alida Valli era la figlia del barone Altenburgen, di famiglia tigolese poi spostata a Pola poi da Pola che se non mi sbaglio sul lago di Como quindi una famiglia diciamo internazionale e molto ricca di rapporti anche culturali con il mondo europeo Il che spiega probabilmente anche il fascino che Lida Valli dovette esercitare fuori d'Italia e che la portò a lavorare per esempio negli Stati Uniti con Hitchcock come regista, con Orson Welles come compagno di film eccetera e poi naturalmente in Italia quando fece la scelta di tornare in Italia con registi come Lucchino Visconti. Io non so se tu ti sei fatto un'idea attraverso le foto che poi anche noi presenteremo del carattere della Valli, del modo in cui lei cominciava ad affrontare i primi passi di questo percorso come una ragazzina, come una persona che aveva già un'idea chiara della professione. E' certo che lei, come dire, figlia di una pianista, figlia di un professore di filosofia, non doveva essere del tutto una ragazzina ingenua. Diciamo che viene fuori perentorio questo fiore selvaggio come mi sono permesso di dire prima. In realtà, cosa accade, lei sapeva quello che voleva. Proprio parlando con Chiara Barbo, ci siamo ritrovati poco fa, lei è di passaggio qua a Venezia, quindi sono contento che sia qui con me, e facevamo un commento, la Loren, la Lollobrigida, la Bosè, altre attrici arrivate un pochino dopo, nel dopoguerra. In realtà, il loro volere entrare nel mondo dello spettacolo, diciamo pure così, anche se all'epoca era molto meno articolato che non oggi, è passato, ad esempio, per i concorsi di Miss Italia, eccetera, eccetera, e già avevano qualche anno in più rispetto ai 15 anni della Valle, anzi ai 14 anni, perché in realtà il primo tentativo da Como, lei lo fa, addirittura vendendo pochi gioiellini, delle cosette che aveva di poco valore, ma che le permettevano da Como di arrivare a Milano, perché aveva letto che cercavano delle esordienti, e lei pensava a 14-15 anni di poter già esordire, 14-15 anni, e questi, per fortuna, questi signori di Milano che cercavano questi volti nuovi, le hanno detto, guarda, cresci un po', poi magari ci rivediamo. Lì però, l'anno dopo, altri elementi vitali le hanno fatte arrivare al centro sperimentale di cinematografia a Roma, una parentela, ed ecco che lì non si sa bene se lei si è entrata, si è uscita per conto suo, si sa solo che ha conosciuto diverse persone e che ha esordito, è riuscita subito con questa faccina, con questa, voglio dire, elemento quasi magnetico che lei ha sempre espresso, ma soprattutto da giovane, è riuscita subito a far capire che poteva dare, e quindi nell'arco di un paio d'anni lei è diventata una che aveva contratti, che prendeva soldi. Nel 1936, io ho un elemento che mi pare si vede anche nel documentario, che per una mostra del cinema addirittura è fra le 5-6 serie, in modo indicate come al momento importanti, ed era praticamente già esordiente. Tutto il resto della carriera fa capire con che forza lei ha perseguito questa sua necessità di essere attrice, proprio necessità, perché la vita è stata tutta condizionata a questo, tanto da accettare di andare in America e riscattare addirittura il contratto quando si è accorta che tutto, in qualche modo anche collegato a ragioni familiari, però sostanzialmente non funzionava più e era meglio che tornasse in Italia. Ha avuto anche abbastanza fortuna da un certo punto di vista, però ha avuto tanta sfortuna in quelli che potevano essere i rapporti interpersonali, in cui la sua vita è morto in guerra, altri probabilmente hanno solo aiutato un pochino la sua crescita anche dal punto di vista culturale, perché una cosa che non dice il documentario che voi vedrete in esclusiva in America è che il teatro con Pasinetti l'aveva provato già nel 1938, se non vado errato con la data. Cioè praticamente Pasinetti aveva già deciso che lei oltre a essere un'esordiente attrice importante dal punto di vista cinematografico aveva la statura personale da poter anche fare l'attrice di palcoscenico, che si sa bene che è tutt'altra cosa, il cinema viene fatto a pezzetti, viene costruito a frammento, una che deve fare una commedia e in realtà deve fare una forza fisica e anche spirituale e pare che abbia fatto un paio di rappresentazioni di una commedia e poi non ce l'ha più fatta, ha mollato, salvo riprendere poi il teatro dopo gli anni 50, dopo Senso, quando Giancarlo Zagni ha lasciato l'Italia, è andata in Sud America, quindi in realtà è forse meno conosciuta proprio perché si hanno meno tracce di teatro, nel senso che a parte la televisione, quelle cose importanti che comunque ha fatto, non è che esistano le registrazioni delle cose di teatro degli anni 50-60, ma il resto da un certo momento in poi della carriera l'ha passato sostanzialmente nelle tavole del palcoscenico, accettando un pochino tutti i ruoli, anche quelli un pochino più sciocchini, meno importanti, ma sempre forti, detenendo la sua faccia assolutamente magnetica e rimasta assolutamente straordinaria fino alla fine della sua vita. Certo, è interessante ricordare a proposito della dimensione, diciamo così, volitiva della Valli, che fosse esprimere in parte questo magnetismo, questa capacità degli occhi di esprimere una fortissima intelligenza, appunto volontà e acutezza nel guardare il mondo, il fatto che nel 1943 la Valli rifiutò di recitare in film di propaganda fascista, e quindi la decisione che poi è la stessa capacità di decidere che dopo i successi di Hollywood la riporta in Italia, anche a costo di pagare un forte riscatto, direi che è un elemento determinante nella sua carriera e nel fatto che probabilmente la carriera avrebbe potuto essere ancora più brillante di quella che è stata, ma anche poi nell'interpretazione dei personaggi. Perché poi in Italia, a parte Visconti, lei ha lavorato con Antonioni, con Ponte Corvo, con Brusati, con Pasolini, quindi con altissimi registi del cinema nuovo negli anni 60. Negli ultimi anni, io mi ricordo, ero ragazzo, che lei compariva in film in po' di tutti i tipi e si aveva l'idea, l'impressione, di una straordinaria professionista che aveva vinto il complesso delle dive, il complesso divistico, per cui per esempio, che ne so, l'Olo Brigida o la Pampanini o anche la Loren non hanno più lavorato a partire da un certo periodo in film collettivi. Lei invece, come una professionista, come un'operaia del cinema, accettava il lavoro e lo mobilitava certamente con la sua presenza. Questo aspetto, non lo so, è corretto quello che sto dicendo? Ti pare che sia un aspetto rilevante nella sua figura? Assolutamente d'accordo col termine professionismo, grande professionismo fino alla fine, nel senso che il professionista sceglie ovviamente dei copioni dignitosi, quantomeno, però non è che di per sé si permette di censurare qualcuno che ha scelto la sua faccia o la sua capacità interpretativa per fare delle cose magari diverse. Dario Argento approfitta della vecchiezza e quindi delle rughe e quindi di un certo tipo di atteggiamento arcigno di Alida Valle che si diverte probabilmente in maniera abbastanza simpatica di andare oltre quelli che potevano essere i personaggi recitati prima. Quindi sceglie anche delle cose che magari possono essere sgradevoli sullo schermo perché il professionista fa il suo lavoro naturalmente. Io ho avuto una sola volta l'opportunità di non riconoscerela personalmente ma di parlarle e quello che sto confermando ha come riferimento ad esempio il discorso del teatro, ovvero tanti anni fa io ho avuto da Rai 3 l'opportunità di fare dei documentari su personaggi della cultura veneta e uno che era appunto Francesco Pasinetti e ho cercato di avere insieme ad altre persone che l'avevano conosciuto anche Alida Valle e ho avuto il numero di telefono, l'ho cercata e probabilmente quello era il momento nel quale ha cominciato a stare male. Ha cominciato a stare male ed è una malattia che periodicamente l'è tornata fino a portarla poi alla scomparsa, la morte, ma in quel momento lei ha rifiutato la mia richiesta di intervista perché probabilmente alcuni segni della malattia già in qualche modo erano palesi sul viso, mentre stava continuando però a far teatro. Quindi lei mi ha detto no, l'intervista non me la sento, facendomi quasi intuire che lei continuava il suo lavoro perché nel teatro dove non c'è il primo piano, c'è la figura intera lontana e c'è la possibilità comunque di interpretare, poteva benissimo continuare a lavorare. Perché dico questo? Perché per lo stesso ciclo di documentari avevo intervistato anche Alberto Lattuada che era il marito di Carla del Poggio e lui mi aveva già dato che invece la del Poggio, essendo sfiorita e basta, non avendo scelto la strada anche del palcoscenico e compagnia bella, non volessi vedere vecchia. E quindi queste due persone, queste due scoperte di Pasinetti, due ragazze che hanno avuto da Pasinetti possibilità di far più velocemente la carriera che il vento consentiva loro, una da un lato ha continuato a lavorare e una volta risolto in parte il problema della salute ha ricominciato a fare anche la del Poggio invece si è nascosta. E quindi non ho potuto parlare con nessuna delle due, ma sono due scelte completamente difformi da parte di persone che nel mondo dello spettacolo diventando più vecchie hanno preso strade completamente diverse. E questo però conferma ancora che invece il professionismo di Alida Valli è andato avanti accettando fino all'ultimo di fare ci cosa giustamente la professionalità le veniva richiesto. Una donna bellissima che non è stata prigioniera della sua bellezza e direi che il grande film del rientro in Italia, Senso di Visconti, già in un certo senso lo dimostrava perché lei faceva la parte, pur essendo ancora bellissima, di una contessa un po' agè che viene trattata poi malissimo da questo ufficiale austriaco, secondo quello che era già nel racconto di Camillo Boito, trattata praticamente come una vecchia signora che gli poteva garantire dei soldi e una specie di toy boy in anticipo. Ecco, lì una donna di 35 anni ne interpretava una che aveva potuto avere 45-50. Ma lei è uscita con Piccolo Mondo a fare la mamma a vent'anni. Gli è stata una grande intuizione addirittura di Dino Risi, oltre che di Mario Soldati, ma è stata Dino Risi che l'ha consigliata e ha ribadito il concetto che avrebbe potuto fare. Perché non volevano lei, volevano un'altra, ma al di là di questo, lì si capisce il talento che la bambolina dei film, dei telefoni bianchi, gialli o verdi, quelli che fossero all'epoca del periodo fascista, invece trova proprio la capacità drammaturgica di esistere sullo schermo con una intensità straordinaria a vent'anni. Da non credere, da non credere. Tra l'altro, quello è un film, Soldati è un po' dimenticato, ma quello è un film che pur essendo ambientato nella storia, già apre la strada al neorealismo, a questa dimensione così legata a una realtà quotidiana, umile e rappresentata al di fuori del set cinematografico. insomma. E lei aveva una recitazione da questo punto di vista straordinariamente moderna, mi pare. Assolutamente sì. Perché senza il birignao di tante dame del periodo fascista, insomma, che poi se ne sono liberate a stento anche nel secondo dopoguerra, ecco, e che forse erano molto affascinati per quello. Se si entrasse nelle questioni poi private, dove la vita della Valli così interessante e in alcuni momenti straordinariamente fortunata in ambito cinematografico, è invece una vita piena di tormenti, di tragedie anche, di difficoltà. Una cosa che stupisce è che una donna così, venendo da una famiglia così, dopo aver passato a Hollywood e dopo aver lavorato fino alla fine, abbia bisogno della legge a Bacchelli, perché la fine della Valli corrisponde appunto a questo sostegno che lo Stato gli ha dovuto dare negli ultimi anni, nell'ultimo periodo almeno. A un certo punto, per quanto professionale o professionista, non ci sono stati più ruoli, probabilmente non stava neanche bene, pur avendo avuto un grosso rilancio in televisione, avuto parecchie trasmissioni, anche di celebrazione della vita, delle partecipazioni straordinarie e nel documentario che farete vedere, in realtà molti di questi pezzi importanti sono stati recuperati. Ha avuto il leone d'oro alla carriera, ha avuto un premio qua anche a Venezia, al Goldoni, mi pare. Quindi in realtà ha avuto tanti riconoscimenti, però i riconoscimenti non significano denaro. E probabilmente un figlio che lavora in America, il nipote una cosa e l'altra, io i conti in tasca non li posso certamente fare, però se non ti sei messo da parte, chissà quanto denaro e compagnia, a un certo punto il regime di vita ti comporta che per sopravvivere devi avere una marcia in più. E questa in marcia in più, secondo me, io ho avuto un amico carissimo che ha dovuto assolutamente, era Daniele Del Giudice, che è lo scrittore, mamma mia, ha passato gli ultimi anni, non diciamo come, ma in realtà anche lui a un certo punto la famiglia ha dovuto avere un sussidio in più proprio perché certe cure sono assolutamente costose, dispendiose, per rispettare quello che resta di un'umanità che la malattia sta dissipando, sta facendo scomparire in un essere umano che ti prende un coccolone solo se lo vedi ridotto in quello stato e che non riconosce le persone, eccetera. Quindi io non conosco gli ultimi anni o l'ultimo periodo, ma probabilmente anche lei ha avuto bisogno di un qualcosa di analogo. Sì, e anche questo fa parte del suo non essere diva nella vita privata, diciamo così, come lo era invece agli occhi di tanti, come Hitchcock appunto, nel mondo della cellula loide. E noi ti siamo veramente grati per tutto il materiale che tu hai messo a disposizione, perché grazie ad Alida Valli anche le fotografie acquistano un tocco di magia. Poi per quello che riguarda il rapporto con Pasinetti ricordiamo che Ciali è una grande famiglia proprio di pittori che attraversa la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento con uno sguardo parallelo in parte all'impressionismo e successivo all'impressionismo, ma una capacità straordinaria di fotografare paesaggi che in alcuni casi sembrano per esempio quelli di ossessione del film di Visconti, queste pianure con Casolari, con il fiume che la attraversa, ecco, questo mondo così spoglio si potrebbe dire, come era spoglio la recitazione della Valli. E come erano spoglie le foto di Pasinetti, ripeto, il passaggio, io ho fatto una bellissima mostra anche a Roma con Cinecità e l'Istituto Luce, con Ciculto e Laudadio, proprio di fotografie di Francesco Pasinetti con alla fine un confronto con alcuni disegni del nonno, in realtà la fotografia ricorda proprio quello che il bianco e nero del disegno del nonno riusciva ad esprimere. Quindi è quasi una scelta automatica quella di Pasinetti di dire, io sono nipote di un grande pittore, mia zia è pittrice, mio zio è pittore e quant'altro, ma io scelgo altri elementi di creatività. Ed è passato alla scelta fotografica il bianco e nero e anche i documentari sarebbero una scoperta, io non so se in America quanto possono essere conosciuti, ma da Venezia minore ad altri, ha fatto delle cose assolutamente straordinarie, morendo però nel 1940 e quindi sulla soglia della sua grande maturità e lasciando cose malamente, nel senso che questa morte improvvisa ha creato quasi una frattura con tutto ciò che c'era dentro a un uomo ancora giovane, ancora pieno di voglia di fare e voglia di portare avanti elementi di creatività concreta perché è morto volendo fare il primo film a colori su Venezia e non c'è riuscito, continuando a scrivere commedie, continuando a scrivere poesie, c'è proprio una sorta di uomo del rinascimento ma collocato a cavallo fra la prima e la seconda guerra mondiale da un certo punto di vista. Quindi un personaggio assolutamente anche a riscoprire e che però ha scoperto Alina Valli e quindi adesso forse tramite Alina Valli potremmo cercare di scoprire anche lui. Intanto ti ringrazio tantissimo. Un grandissimo piacere, ha la fabbrica del vedere ma non solo e quindi sono felicissimo di questo incontro e se è possibile andare avanti queste cose che hanno segnato veramente dal punto di vista culturale momenti molto importanti. Grazie per l'occasione. Grazie a tutti.